Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antena 2. Dopo la nevicate dell'Immacolata avremo un deciso miglioramento del tempo. Infatti, come osservate dalla grafica, è previsto un rinforzo dell'alta pressione proprio sul Mediterraneo centro-occidentale e anche sul nord dell'Italia. Proprio a partire da domenica, con una prevalenza di bel tempo, attenzione solo alle nebbie nei fondovalli e soprattutto nella bassa pianura nella prossimità della città di Bergamo, che potrebbe insistere fino al primo mattino. Ho indicato un clima ancora decisamente gelido, con estese gelate fin sui fondovalli, anche dovute alla presenza di neve che porta un sensibile calo delle temperature, soprattutto fra la notte e il primo mattino. Ecco, questo rinforzo dell'anticiclone che, se passiamo alla grafica successiva, sarà praticamente dominante per l'intera settimana. Infatti ho indicato dominio dell'alta pressione dell'anticiclone e temperature anche in deciso aumento, soprattutto in montagna. Compensate uno zero termico che a metà della settimana prossima si innalzerà fino alla quota dei 2700 metri di altitudine. Quindi avremo queste temperature particolarmente miti in montagna, però forti inversioni termiche, quindi temperature invece molto basse nei fondovalle, nelle valli più strette e anche in pianura e quindi diciamo un tempo anticiclonico con le perturbazioni che rimarranno lontane almeno per 7-10 giorni dal nostro territorio, quindi non saranno previste nei prossimi 7-10 giorni né precipitazioni piovose né nevicate. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede una giornata in prevalenza soleggiata, bel tempo su tutti i settori, però attenzione, ho indicato nella zona della bassa valle seriana, nella zona del basso lago di Iseo, nella zona fra Iseo e Sarnico e soprattutto in prossimità della città di Bergamo saranno possibili delle nebbie assai insidiose, anche nebbie congelantesi con temperature prossime agli 0 gradi, quindi attenzione per coloro i quali si spostassero sulle zone più meridionali del nostro territorio. Mentre splenderà il sole per l'intera giornata e fin dal mattino sulle nostre montagne aerobiche con uno zero termico vedete che si inizierà ad innalzarsi fin verso la quota di 1900 metri di altitudine. Farà ancora freddo al primo mattino con temperature abbondantemente sotto gli 0 gradi anche nella città di Clusone, minime intorno ai meno 3-4 gradi. Andiamo ora con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la settimana in valle seriana che vede come vedete una settimana in compagnia del sole, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per tutte le giornate. Partendo con ordine lunedì avremo un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, una pressione atmosferica in aumento a 1023 millibar, temperature ancora molto fredde al primo mattino, vedete minima intorno ai meno 4 gradi ma massime che guadagneranno qualche grado e sull'alto piano di Clusone raggiungeranno i 9-10 gradi, zero termico che si innalzerà a 2500 metri di altitudine. Martedì cambierà poco, si rafforza ancora di più l'anticiclone, pressione atmosferica in aumento massime, vedete a Clusone che si porteranno intorno agli 11 gradi, quindi nelle ore centrale giornata assisteremo a una certa mitezza del clima, non più freddo come i giorni precedenti, sebbene le valori minime saranno sempre sotto lo zero, intorno a meno 1-2 gradi. Vedete uno zero termico molto elevato, intorno ai 2700 metri di altitudine, a indicare questa aria particolarmente mite in montagna che galleccerà proprio sopra questo cuscino di aria fredda invece nei bassi strati. Mercoledì cambia poco, bel tempo generale su tutti i nostri settori, ancora attenzione nelle zone di pianura alle nebbie, specie nottetempo al primo mattino, ma per il resto sarà una giornata di in compagnia del sole, vedete addirittura ancora qualche grado in più, 12 gradi di massima, Clusone non zero termico in rialzo a 2900 metri di altitudine. Giovedì probabilmente la giornata con le temperature più umiti, addirittura potremmo toccare i 13-14 gradi nelle ore centri della giornata. Poi da venerdì l'ingresso di aria più fresca porterà un calo delle temperature e anche in montagna lo zero termico tenderà a diminuire e le temperature tenderanno a scendere di qualche grado con temperature a Clusone comprese fra 1 e 11 gradi. E per il metodo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Grazie. Grazie.